Allora, volevo commentare il calendario di Serie A Considerato che il Napoli non ha fatto strasferte, diciamo, difficili L'Inter, con Conte partita fortissimo, con due ragazzini davanti, un calcio della Madonna Bisogna ammetterlo Noi siamo partiti allegri, spenti Sembrava che ci fosse Allegri in Pantina, ma in Pantina è anche spenti Una Juve, veramente, sì, ci mancavano dei giocatori, ovviamente Ma, l'atteggiamento Ora, Sarri ha iniziato con dire pubblicamente Ronaldo, fai quello che vuoi E a mio modesto parere, forse era meglio dirglielo privatamente E non così, no? Detto questo, il Napoli è alla seconda La Juve... Insomma E alla prima c'è Fiorentina-Napoli Meno male Che l'ultima volta la Fiorentina ha fatto un brutto scherzo a Napoli Andranno giù col coltello tra i denti Noi giochiamo a Parma Occhio, perché a Parma c'è una tradizione a noi Che... Quell'anno di Lippi siamo riusciti a vincere Ma poi, ultimamente non è che... Quindi, concentrazione Tanti giocatori devono entrare con la mentalità di aggredire alto Che Sarri vuole aggredire alto Svegliamoci tutti Perché si parte col botto Abbiamo tre partite Abbiamo... La Sfera a Parma Abbiamo Napoli E andiamo a Firenze Cazzo La chiudo qua, eh Ciao Ciao